C'è una necessità di rappresentanza, secondo me, delle istanze, delle persone. E poi un'altra cosa, ogni uomo ha una storia da raccontare. Pensare che ci sia la possibilità, attraverso il racconto in rima sulla musica, per esempio, di farlo, o attraverso le atmosfere di certi beat, o la maniera in cui vivi la tua esperienza notturna di writer, o diurna, la preparazione che ci metti, l'impegno che ci metti. C'è nulla di frivolo in questo, sono queste cose che mi interessano. Io ho una sorta di detector verso le cose farlocche, di questo sono convinto. A volte può sbagliarsi, ma ho un detector.